Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gamer e bentornati su Xenoverse 2 per un video davvero speciale e che mi avete richiesto in tantissimi. Dopo gli ultimi aggiornamenti, tramite il sesto DLC e l'aggiornamento gratuito, ormai i nostri patroller possono diventare sempre più forti. Quindi possiamo ottenere dei Super Saiyan Blue, nuove trasformazioni e possiamo raggiungere anche dei nuovi livelli. Da come notate, lì in alto a destra, il mio Joseph è di livello 90 e non può raggiungere i livelli successivi. Questo è un bel problema, quindi oggi vi farò una guida davvero velocissima in cui scopriremo come salire di livello nel giro di pochi secondi senza dimenticare tutti i preparativi che servono necessariamente per salire di livello, perché come nel mio caso non è più possibile salire. Allora, vi mostrerò tutto da subito. In primo luogo bisogna utilizzare il robot di teletrasporto. Non so come diavolo io l'abbia pronunciato, però la prima cosa, ragazzi, come sempre, è andare alla casa dell'anziano saggio di Namek. Ogni volta dovete sempre entrare nella casa dell'anziano saggio. Quando raggiungete il limite, ritornate a parlare con lui. Da come notate, ha un punto interrogativo lì sopra e parlandogli ci dirà che sotto il tuo animo tranquillo giace uno spirito guerriero colmo di speranza per tutti. E' come una luce accecante, tu sei il nostro faro. Vabbè ragazzi, in ogni caso cos'è che farà? Ci sbloccherà ulteriormente il nostro potenziale. Quindi potremmo salire ulteriormente di livello, poiché io mi ero bloccato a 90. Qualcuno di voi si era bloccato tipo ad 85. Andate da lui e ogni volta vi sbloccherà circa 5 livelli. Ora ecco, possiamo essere di gran lunga più forti, però vi farò vedere come ora, dal 90, passo in pochi secondi a livello 95. Salutiamo Ukaz che è lì, in lontananza. Lo so, sembra una cosa volgarissima. E solo per questa grande battuta dobbiamo superare ora i 5000 like, anche perché ho in mente davvero tanti what if da proporvi. E riutilizzando il robot teletrasporto possiamo ritornare all'area degli acquisti di Conton City. Noi lo facciamo, poiché ritornando qui, ci dirigiamo alle spalle di questa zona. E guardate un po', c'è Tozok, questo combattente che, ragazzi, è fondamentale. Fino al livello 80-85 vi chiederà denaro per salire di livello. E poi, dall'85 in poi, in pratica vi chiederà medaglie pattugliatore temporale. Sì ragazzi, avete capito bene. Parlare con lui vi permetterà di salire di livello. Infatti mi chiede, vuoi aumentare la tua potenza? Io gli dico di sì. E mi chiede 60 medaglie pattugliatore temporale. Io ero a 90. Faccio sì? E andiamo a vedere che succede. Hai guadagnato un livello e, per una prova semplicissima, eccolo lì. Livello 91. È chiaro, ragazzi, che dovete purtroppo utilizzare un bel po' di medaglie pattugliatore temporale. La cosa che vi consiglio di fare è cercare di farmarne il più possibile. Vi conviene fare soprattutto le missioni esperto. Ci sono alcune specifiche, come quella, ad esempio, contro Goku, Super Saiyan Blue. In modo tale da poter essere sempre più forti, avere sempre più medaglie e salire sempre più di livello. Notate? Ora ho raggiunto il massimo. Ma è chiaro, ragazzi, che non mi fermo qui. Andiamo qui, di nuovo nel teletrasporto. E da come avete notato, ragazzi, è roba che si fa nel giro di qualche minuto. È chiaro che, se avete già tutte le medaglie pattugliatori temporali e vi siete già sbloccati al massimo direttamente con l'anziano saggio, veramente ci mettete roba come pochi secondi, eh? Quindi adesso riparlo con lui. Avvicinati e lascia che risvegli la tua potenza nascosta. Ragazzi, il livello massimo, purtroppo, almeno per il momento, credo che sarà sempre il livello 99. Non credo andremo oltre, però non si sa. Magari, forse un giorno, ci saranno altri livelli. Ora puoi portare il tuo livello a 99. Come ti senti? Ora dovresti riuscire a raggiungere il tuo vero potenziale. Alcuni aspetti del futuro sono sconosciuti persino a me, incluso cosa ti riserverà il destino. Ritorniamo all'area degli acquisti e avremo la possibilità, appunto, di salire al livello 99. Ragazzi, ci siamo fatti, o meglio, tra pochi secondi ci faremo. Praticamente, quanti sono? Nove livelli in totale. Mi chiede sempre più medaglie, pattugliatore temporale, se notate. Ce li siamo fatti nel giro davvero di pochissimo tempo. Cioè, raga, non so se ve ne siete resi conto. Vediamo un po'. Oh, prossimo livello 0. Ragazzi, siamo al livello 99. Volevo solo vedere una cosa. Che mi dice? Ehi, un momento. Sei già incredibilmente forte. Ci sono limiti alle cose che posso fare, sai? Scusa, ma io non posso aiutarti. Se cerchi qualcosa in più, rivolgiti altrove. Per testare appieno il nuovo potere di Joseph, ragazzi, ci facciamo una missione parallela. E vi annuncio che molto presto faremo questa qui. E la battaglia finale? Ve l'avevo già detto. Però, ragazzi, la dobbiamo fare assolutamente, magari in un prossimo video. Proprio perché è una missione molto, molto difficile. Io per ora vorrei fare una di quelle missioni che ci hanno messo sempre in difficoltà. Questa qui, almeno su PlayStation 4, non l'ho ancora fatta. Ce ne sono anche altre, però, di missioni parallele difficili, eh. Ed eccoci qua. Ragazzi, mi sono portato appresso ben due. Goku Ultra Instinct. Così dovremmo stare un po' più sul sicuro. Io spero che il Super Saiyan Blue, ragazzi, ci sarà utile. Perché vi ricordo che l'ho sbloccato in uno dei precedenti video. Ci ho fatto proprio una guida. E' arrivato poi un video in cui vi mostravo proprio Joseph in Super Saiyan Blue. E spero assolutamente che voi l'abbiate visto. Perché, secondo me, è stato uno dei momenti più epici di sempre. Legati almeno a Xenoverse 2. Allora, quindi, Giniu è stato sconfitto. Ora direi di buttarci assolutamente su Zarbon. E non appena possibile mi vado anche a trasformare. La cosa, ragazzi, che, da come avete notato, non mi piace del Super Saiyan Blue. È che, purtroppo, consuma troppa aura. Scende davvero troppo velocemente. Ed è una cosa che mette in seria difficoltà un po' tutti. Dai che lo abbattiamo. L'ultimo colpo. Eh no, si è teletrasportato. Quasi non ci credo. Gli restava un ultimo pugno in faccia. E sarebbe stato sconfitto. Però, vabbè, ce l'abbiamo fatta comunque. E ora, vai col Super Saiyan Blue. E vediamo se riesco a sconfiggere Dodoria. Che dovrebbe essere qui nelle vicinanze. Proverò con una Suprema che io ho messo da poco. Ovvero la Kamehameha. Finale! E mamma mia, ragazzi, l'ha scassato. Povero il piccolo Dodoria. Che poi tanto piccolo non è. C'è da dire. Allora, adesso vediamo se arrivano altri nemici. Anzi no, ce n'è già un altro. E io che ero lì, bello carino e coccoloso, a ricaricarmi la mia aura con la massima tranquillità. Va bene. Quindi, ragazzi, lo buttiamo giù e andiamo di Suprema. Con la raffica energia massima potenza. I danni che gli facciamo sono davvero molto elevati. Anche perché siamo supportati da due grandi combattenti, no? E ora arrivano altri tre malvagi. Sono gli androidi? Non abbiamo paura, ragazzi. Li distruggiamo tutti, dal primo all'ultimo. Peccato che stia arrivando anche qualcun altro ed è Cell. Probabile che dovremmo affrontare un botto di nemici in questa missione. Quindi, la soluzione migliore, ragazzi, sarà cercare di fare il prima possibile per fare poi anche la parte suprema della missione. Allora, c'è l'androide numero 18, ragazzi, che mi sta proprio rompendo le scatole. Quindi, a questo punto, andiamo così, di cattiveria, e la distruggiamo. Quindi, lei è abbattuta. Almeno, credo. No, è ancora... è ancora in vita. Boom! E vabbè, l'abbiamo picchiata. E ora direi di supportare il più possibile almeno questo Goku Ultraistinto che atterra. Dai che l'abbiamo aiutato. E ora ci scateniamo, direttamente, su C16. Ma, ragazzi, che lo scassiamo, eh? Ormai abbiamo due Goku Ultraistinto qua. Poi abbiamo anche il Super Saiyan Blue. Che direi di più? Mamma mia, ragazzi, faccio le rime così, live. Ed ritorniamo Super Saiyan Blue. Allora, questo lo scasso così, con lo schianto del Meteorite. Tanto il supporto di Goku. Vediamo ancora. Benissimo. Oh! Ci ha spediti via. Ci provo Stamina Break? No, non riesco a farlo. Va bene. Ah, ragazzi, mi ha preso in pieno qua. Mi ha fatto un botto di danni. Però è stato sconfitto. Va benissimo. E credo che a breve, ecco, si aprirà il portale. Chi ci ritroviamo qui all'area desertica? Vediamo un po'. Mr. Satan. Non so per quale motivo lui sia lì. Devo stare attento che sta rompendo un po' le scatole. Io nel frattempo picchio Majin Buu, va? Ah, almeno mi scateno un po' su di lui. Proviamo a fargli molti danni. Ma vi dico, ragazzi, la missione risulta quasi più facile di quanto mi aspettassi. Qui, su PlayStation 4, non l'avevo ancora completata. Strano. Probabilmente l'ho fatta più volte direttamente su PC. Anche perché questa missione di base me la ricordo. Io però vorrei notare una cosa che fino ad ora non ho fatto. È vedere il livello dei nemici. Adesso lo facciamo. Perché se noi siamo livello 99 E... Nuovi file di aggiornamento anche per Assassin's Creed Anche i nemici. No! I nemici sono di livello 61! Non vale come per i pattugliatori temporali nemici. Quindi noi siamo 99. Ma c'è lì questo Gotenks che praticamente sta prendendo solo schiaffi amarissimi. Quindi cerchiamo di vedere un po' come stabilire il tutto al meglio. Allora, io proverei a colpire... Boom! Gotenks. Ma è lui a dare un pugno a me. Cattivissimo, tra l'altro. C'è Goku quindi che mi ostacolava un pochettino, eh. Però almeno lo malmeniamo. Andiamo con la raffica energia massima potenza E guardate quanto gli togliamo. Eh ragazzi è tanto, eh. Si vede il livello di... Di differenza tra me e lui. Ci sono circa, sì, più di... Più di 30 livelli. Sono tipo roba come 38-39 mi pare. Adesso non ci sto nemmeno ragionando più di tanto Perché sono troppo concentrato sullo scontro. Allora, sto Gotenks è stato sconfitto. Ottimo. Direi di diventare subito Super Saiyan Blue Mentre un Goku Ultraistinto purtroppo ci ha abbandonati. E io mi concentro adesso su questo piccolo Kid Buu. Vediamo se riesco a rompergli un po' le scatole. Vai così, buttalo giù. Bene. E andiamo di Suprema. Così dovrebbe essere sconfitto. Ottimo. Ragazzi, vi dico. Stiamo procedendo in maniera ottima Con questa missione parallela. Anzi, sono molto soddisfatto. Quindi dobbiamo assolutamente continuare così. Vedete, quando fai tutte queste missioni Con i livelli adeguati La missione è di gran lunga più facile. Mamma mia, ragazzi. Li stiamo scassando. Li abbiamo fatto molto, ma molto male. Anche se tra pochissimo Una capsula me la vado a mettere. Perché è importante avere la vita più alta possibile. Chi ci ritroviamo qui al campo aperto? Abbiamo Piccolo. Ma ciao, amico mio. Che mi dici? Addirittura lui si para. O meglio, provava a pararsi Poi si è preso comunque un po' di schiaffi. Vedete? Sembra essere abbastanza prestante sto Piccolo Però noi facciamo una raffica energia massima potenza E abbiamo fatto un po' di danni Però ecco che arriva Vegeta nella sua forma Magin Piccolo, ragazzi, dovrebbe avere adesso poca vita, eh? E infatti, come pensavo Devo solo sperare che quanto prima Io riesca a colpire Piccolo O meglio, proprio eliminarlo Così l'altro Goku ultraistinto Non è da solo Come tra l'altro sta succedendo Mannaggia sto Piccolo che scappa Ma guardatelo Ma sei proprio un vigliacco Oh, vai così E colpiscilo appieno Benissimo Adesso devo andare assolutamente ad aiutare gli altri Che ovviamente Sono qui un po' da soli Oh, vai 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 Aiutali Quanto prima, ragazzi, devo aiutare sto Goku ultraistinto Sto subendo un botto di danni Però almeno c'è l'altro Goku che dà supporto a Goku Mamma mia, ragazzi I trip mentali incredibili impressionanti Vai così che è mio lui Vi dico, da Super Saiyan Blue lo scasso malamente E peccato che la Suprema l'abbia colpito Ma solo per pochissimo tempo Nelle sue fasi finali Peccato, peccato Allora Ritrovo Gon, ragazzo Eccolo qui Quindi gli proviamo a fare un po' di danni Bene, così colpiscilo E poi gli andiamo alle spalle Peccato che lui ha pensato di fare la stessa cosa Ma non è servito E ora non resta che distruggere totalmente questo Vegeta Che forse è proprio l'ultimo nemico da abbattere Non lo so, non me lo ricordo Sono sincero Però, bah, vediamo Ed ecco la conclusione E facciamo anche la conclusione Suprema Che volete di più, ragazzi? Quindi mi ricarico tutta l'energia E attraverso il portale Qui al ghiacciaio dovrebbero esserci Ecco, altri nemici abbastanza rompiscatole Eh, ci ritroviamo infatti Broly Non ne avevo dubbi Questo sì che è rompiscatole Non ho nemmeno tantissima vita Quindi devo stare attento Proverò, se possibile A spammare un po' di Supreme Solo che lui sto notando Riesce a fare un botto di teletrasporti Quindi è una situazione un po' compromettente Va bene Abbiamo Bardak In una versione davvero cattivissima Attenzione che qua mi becco io Sta Suprema Via, via, via E sono stati sconfitti entrambi Mamma mia, ragazzi Qua male, male, eh Ve lo dico Devo curarli Devo assolutamente curarli Mamma mia, via, via, via Andiamo via, ragazzi Io ci provo comunque, eh Vediamo a fare Magari se ci riesco La trasformazione in Super Saiyan Blue Ma Broly qua mi scassa E purtroppo Siamo stati sconfitti Un po' un peccato Però la missione In ogni caso È stata completata Per cui Ci può stare Finalmente quindi Joseph è di livello 99 Il livello massimo Fatemi sapere Se questa sorta di guida Vi è stata utile Poiché ragazzi È fondamentale Raggiungere il livello massimo All'interno del gioco Per avere un bel patroller Più potente che mai Mi raccomando ragazzi Iscrivetevi ora Al mio canale YouTube Cliccando qui al centro Se non l'avete ancora fatto E guardate altri video Presenti sul mio canale Cliccando qui A destra e sinistra Quindi alla prossima Ciao Ciao